Raduna la tua tribù e preparati per il Natale più avventuroso di sempre. Su Sky 3D è Jungle Christmas. Con tanti film in prima visione. Wow! E nuovi documentari in esclusiva 3D. Se senti il richiamo del Natale, Jungle Christmas. Solo su Sky 3D. Prova gratis Sky 3D per 15 giorni, senza costi né impegno. Grazie a tutti.